Domani, 4 giugno, a Milano, nuova sfida per Luca Vullo, che calcherà uno dei palcoscenici più famosi della comicità italiana, quello di Zelig, con la stand-up comedy in inglese. Si esibirà in piedi davanti a un pubblico con cui interagirà direttamente. Dall'ambasciatore della gestualità italiana c'è da aspettarsi di tutto. Nel comedy show in inglese dell'area Zelig di Milano, grazie a Big Comedy UK, l'agenzia creata a Londra da Marco Dipinto, per diffondere risate in tutto il mondo. Il percorso è veramente originale perché in realtà ho iniziato con la stand-up in inglese all'estero, negli Stati Uniti e poi Londra e in tanti altri paesi, ma non l'avevo mai fatto in Italia. La cosa particolare è che adesso per la prima volta farò stand-up in inglese in Italia, dove a Zelig, comunque il teatro, insomma, che è veramente prestigioso, dove sono saliti i più grandi artisti comici italiani, quindi per me è un grandissimo privilegio e anche una gioia. Ma la cosa bella è che lo faccio appunto da Londra, perché il progetto Big Comedy UK, che è di Marco Dipinto, il fondatore è un altro grandissimo artista, da anni mi corteggiava per dire facciamo uno spettacolo tuo a Londra, eccetera, però non ci siamo mai riusciti. Stavolta ci siamo riusciti, ma partiamo da Milano e poi andremo a Londra. I comici che si esibiranno affronteranno argomenti taglienti e senza filtri. A presentare la serata sarà il Made in Italy, Tiziano Labella, mentre sul palco si alterneranno Victor Patrascan, Giorgio Fumo, Giuliano Dule e Luca Vullo. Secondo me è che con la stand up rispetto allo spettacolo teatrale hai la libertà di dire qualcosina in più, infatti loro quando ti dicono sei libero di dire quello che vuoi, parolacce, qualsiasi cosa, possiamo essere dissacranti, non abbiamo censura. Parlerò degli aneddoti più assurdi che mi sono capitati nel confronto con le altre culture, con gli altri popoli, cercando di raccontarmi ma anche di non fare soltanto ridere ma di portare un messaggio, che è quello che ho sempre fatto poi. Sarà l'ironia la chiave che sceglierà di utilizzare l'ambasciatore della gestualità italiana nel mondo impegnato da anni in prestigiose università internazionali e ambasciate italiane all'estero per insegnare l'arte del nostro popolo, cioè quella di comunicare con il corpo e per divulgare l'importanza della gestualità italiana come patrimonio immateriale della nostra cultura, un vero e proprio superpotere tutto Made in Italy.